Una bella storia di collaborazione, sinergia e solidarietà. Una luce che spicca in questo lungo e buio periodo segnato dalla pandemia. Pochi giorni fa la nipote di un'anziana signora che non abita ad Agropoli ha segnalato una condizione critica relativa alla sua novantenne nonna materna che invece risiede da sola nella città di Agropoli. L'anziana signora, nonostante l'età, probabilmente per un mero disguido burocratico, non era stata né inserita né contattata per praticare il vaccino anti-covid-19. Appresa la situazione, l'ente comunale si è subito attivato alle 17.30. Ieri pomeriggio due agenti della Polizia Municipale del Comune di Agropoli si sono recati al domicilio della signora e l'hanno accompagnata a bordo dell'auto di servizio presso il centro vaccinale dove le è stato inoculato il vaccino. L'anziana signora è stata poi riaccompagnata al proprio domicilio dando rassicurazioni ai parenti residenti lontano da Agropoli.